Salve a tutti ragazzi, eccoci qua e trovate in questo nuovissimo video, oggi siamo tornati con la carriera allenatore del Cagliari insieme a Don Matteo. Oggi andremo a fare tre partite molto importanti, le quali sono il Sevilla in Champions League, poi il Milan ed infine la cara nostra Juventus. Sono partite molto toste, infatti questo girone, questa andata è molto difficile, quindi vi chiedo di lasciare un buonissimo like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per supportare alla meglio questo continuo di questa serie che a parer mio stando molto bene, i giocatori però sono molto stanchi, come vedete nella schermata, infatti dovrei fare qualche cambio, ma sinceramente non mi va di farlo perché Farias e Barco sono un po' ancora freschi, Cutrone è molto stanco perché l'ho fatto giocare sia contro il Parermo sia contro il Bari, quindi andiamo a sfidare il Sevilla che è ultimo in classifica ad un punto, se oggi andasse bene, vincendo questa partite andremmo a sette punti, nel frattempo vedete che il livello è leggenda, se vinciamo una partita andiamo a sette punti, diciamo che l'Europa League non ce la toglierebbe più nessuno, però poi rimarrebbe lo scontro diretto col Bayern Leverkusen da sistemare, in tal caso pareggi contro il Paris Saint Germain, sempre oggi, oppure vada a vincere addirittura e quindi potremo metterci un po' in discussione ancora, quindi ci vediamo direttamente con le azioni salienti, però vi ricordo di lasciare un bellissimo like e iscrivervi al canale. Unizione per il Sevilla, ho commesso a farlo con Delict, non pensavo di poter far farlo, invece ci sono riuscito, vediamo se... non so chi sia che debba battere, infatti batterà... oh, meno male, meno male, meno male, Banega l'ha sbagliata. Attenzione, ma attenzione, madonna Cragno, che cosa mi ha tolto? È tosta, è tosta, la vedo molto tosta, perché i giocatori non stanno girando come dovrebbero girare, non riesco ad utilizzarli, e sono veramente perplesso dall'inutilizzabilità dei miei giocatori, mi stanno praticamente distruggendo di gioco, soprattutto. Beh, madonna che tiro di merda, qui diciamo Pedro al quarantacinquesimo, potevamo andare in vantaggio, e abbiamo fatto la cagata sottoporta, poteva tirare sicuramente meglio. Barella butta male in mezzo per Delict, eh, arrivaci ogni tanto, madonna che non ci arriva mai. Uuuuh, pensavo che fosse un tiro molto brutto, invece, Parias se la stava sbrigando molto bene. Vediamo un attimo qui se riusciamo a sfruttare l'angolo corto, Barella butta male in mezzo, troppo addosso, mamma mia, neanche un angolo riusciamo ad azzeccare quest'anno, eh. No, non ci credo, non ci credo, ho preso il palo, con barco, davanti al portiere, non ci voglio credere, che vergogna. Stiamo rischiando, stiamo rischiando, stiamo rischiando. La sto vedendo molto molto brutta, manca anche un quarto d'ora, il primo palone che esce fuori. Ho detto sinceramente, vado a fare un paio di cambi, perché non possiamo reggere tutta la fottutissima partita così. Mamma mia, non ci voglio credere, che cosa mi ha parato anche qui, non ci voglio credere. Ma ormai non ne faccio più cambi, non è più uscita la palla, quindi la vedo anche inutile a fare dei cambi. Continuiamola così, mancano veramente pochi istanti di gara. Ma sei scemo, madonna, proviamo a gestircela. Beh, ultima azione, ultima azione. Guardami Barella, piazzamela, non ci voglio credere, che cosa mi ha parato appena il portiere. Mamma mia, che cosa è riuscito a pararmi quel portiere, con un bellissimo tiro di Barella, che me la gira. Per un one song, che mi caga il gol così, a mezzo metro dal portiere. Non farmelo dire che cosa mi sembri. Non farmelo dire che cosa mi sembri, che mi ha mangiato il gol così davanti al portiere. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Che cazzo si è mangiato questo qui, davanti al portiere. Allora, non si vede molto bene, ma il Paris Saint Germain ha vinto, quindi noi andiamo ufficialmente a 5 punti. E il Bayer Leverkusen se ne sta a 4, quindi sta sotto di noi. Ed è una cosa veramente buona, perché ci dà, diciamo, la possibilità di essere a più uno. E quindi con due partite possiamo ancora qualificarci. Ormai abbiamo neanche l'Europa League, però è ancora libero. Seconda partita ufficialmente iniziata da questo momento, ho fatto solo due cambi contro il Milan. Ho tolto Andreoli perché era visibilmente stanco e quindi inutile far giocare una persona molto stanca, perché potrebbe da un momento all'altro non correre più e magari in un contropiede mi fanno gol. E come secondo cambio ho messo Paduin al posto di Vanderville, perché Vanderville lo voglio far riposare per la Juventus, perché ho visto che era un po' più stanco rispetto alle difensori e quindi magari per sicurezza ho voluto fare questo, diciamo, cambio. Vediamo subito che tiro di merda di Giopedro, come sempre. Mamma mia, di prepotenza! Giopedro, da lì, cazzo, di prepotenza, in mezzo a 4. Giopedro, sei riuscito a liberarti per il tiro e poi ho fatto un tiro di merda. Eh, mamma mia no, non ci voglio credere, cioè i primi 13 minuti completamente dominati da noi. Adesso anche un palo di Sao, non ci voglio credere, cioè tutta una ladra, li stiamo per il momento dominando. Non entra però, non entra, non vuole entrare. Eh, vabbè, Donnarumma sta già iniziando a rompere, eh? Anche qui, madonna, un altro tiro di Barella, fatto veramente bene, che conta a giri. Sì, riuscito a prendercelo. Barco, ecco. Bella quest'azione, Farias, ma non ci voglio mai credere nella vita, come cazzo hai fatto a sbagliare un gol del genere? Eh, vaffa, non ci voglio, no, raga. No, raga, no, raga. Anche adesso, cioè, mai fatti così tanti spezzoni in un tempo, ma poi in così poco tempo, cioè in 25 minuti di partita. Ho fatto tantissimi spezzoni, cioè, capite voi di quanto io stia dominando. Raga, no, ma lo vedete? Ma lo vedete che non c'era neanche il portiere adesso? Che non c'era neanche il portiere e non sono riuscito a segnare? Finalmente, 1-0, il solito, il solito che va a sbloccarla. Joao Pedro, ma se non ci fosse lui, se non ci fosse lui nella rosa della squadra, madonna, l'avrebbero dovuto inventare. Madonna, pure la traversa adesso al secondo tempo. Oh, mio Dio, quanto li stiamo rullando. Non ci... no, anche questo, non ci voglio credere. Harry Wings, che cazzo si è andata a mangiare? Mamma mia, no! No, che cosa mi ha appreso anche adesso? Con tutto quello che poteva fare. Ma vogliamo scherzare? Il God Alex. Il God Alex. Patrick Cutrone. Tu hai 0 all'ottantesimo e l'abbiamo chiuso ormai. L'abbiamo chiuso. C'è anche Donna Roma al calcio d'angolo. C'è anche Donna Roma nel calcio d'angolo. Bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. Puttana ladra. Non cambia nulla, non cambia nulla. È vinta, è vinta, è vinta. Primi tre punti di quest'oggi portati a casa, visto che in Champions abbiamo pareggiato. Una cosa ultima per andare a giocare contro la Juve è che abbiamo ricoperto Vitinho, una cosa molto ottima per noi. In più andremo a rimettere Van Der Gheel. Sinceramente Capuano mi è piaciuto molto, però non si può vedere Capuano capitano, quindi mettiamo un'altra volta Sau. E questa è la formazione titolare. In banca abbiamo Vitinho con Cutrone pronti ad entrare nel secondo tempo per spaccare il mondo, per modo di dire, perché tanto non lo spaccheranno, perché lo spacco io, perché sono troppo forte. Questo mi devo stare zitto. Abbiamo otto punti di distacco dalla Juventus. A parte che il Milan è molto messo male, se vincessimo oggi, non mi lamenterei neanche tanto, perché comunque ci terremo alla larga molte squadre. e accorceremo anche solo Juventus, che è la seconda classifica, fare punti col Bologna, quindi è una cosa ottima. Andremo a 23-5. A quasi metà campionato ci potrebbe stare. Uh, Buffon, subito Buffon, doppia parata. Doppia parata per Buffon, che c'è ancora, non capisco perché abbia a 41 anni e sta ancora giocando nel videogame. Però per noi va bene. Farias, non cagartelo, Farias una zero subito. Uh, una zero a comandare a casa nostra. Mamma mia. Magari in trasferta ci possono rompere il culo, perché è la Juve in casa loro, ma qui si comanda, si deve dettare legge, poi se si perde non fa niente, ma il gioco lo dobbiamo comunque dettare noi. Brutta questa azione, brutta questa azione, brutta questa azione. Bruttissima questa azione, bruttissima questa azione. Infatti la Juve ci ha punito con Bernardeschi, perché ci sta, perché ci sta. Mamma mia, qui, mezza le gambe di Cragno. Ovviamente non poteva fare niente, se il pallone va in mezza le gambe, ma rischioso per come sono entrati, più che altro. Ancora, ancora, ancora Cragno, ancora Cragno. su un tiro, un tapin quasi, vincente di Mangiukic. Adesso inizia a giocare la Juve. Angolo è molto probabilmente, sarà l'ultimo della nostra partita, perché, sì, perché è finito il tempo, più che altro. Esclusivamente per quello, quindi proviamo con Vitinho, a piazzarlo in mezzo, ma nulla da fare. Barco, è finita la partita, va benissimo così, un pareggio contro la Juventus, non si può buttare, perché la Juventus comunque è molto più forte nettamente di noi, non si poteva fare di meglio, anzi, sono molto contento di aver fatto un pareggio, meglio di una sconfitta sicuramente. La vera della situazione è questa, il Paris Saint-Germain, ha esattamente 8 punti, noi ne abbiamo 5, il Bayern Leverkusen ne ha 4, ed infine il Sevilla ne ha 3. Allora, tutto sta nel fatto di fare una bellissima partita nel prossimo video, perché, mancano 6 punti disponibili, e se andassimo a perdere, il Bayern Leverkusen andrebbe più 2, e quindi sarebbe praticamente impossibile andare in, continuare in Champions League, quindi dovremmo vincere a tutti i costi. Adesso vediamo un attimo, nelle prossime partite, cosa andremo a fare, perché, sfideremo il Bayern Leverkusen, e concluderemo anche novembre, per poi andare a fare, una di queste due partite, tra Sassuolo e Sampdoria, perché non mi interessano farle tutte e due, e sfideremo direttamente il Paris Saint-Germain. Mercoledì chiuderemo completamente tutto il girone di Champions League, ne faremo 2 su 3, simulerò una di queste due, facendo, mi sa, la Sampdoria turnover, magari me la gioco e faccio turnover, perché bisogna concludere, bisogna concludere, qui mi è arrivata l'ultima notizia di mercato, cioè Kaya Verz, che vale 18 milioni, perché ha una clausola recessoria, quindi dovrò scegliere tra Federico Chiesa, che mi vale al minimo 21 di milioni, oppure Kai, poi andremo a prenderci anche Chambers, che adesso vale 10 milioni, ha aumentato un attimino, ma ci sta, perché anche lui sta migliorando, come vedete il nostro profitto è meno 10 milioni, ma se nel prossimo video centraremo l'obiettivo Champions League, nel senso di qualificarci almeno agli ottavi, ci arriverebbero quei 10 milioni all'incirca, o forse 6 milioni, che ci aiuterebbero a diminuire le finanze, per poi fare un'altra volta il cambio di proprietà, quindi detto tutto questo, vi invito a lasciare un bellissimo like, per quelli che ci sono ancora nella visione del video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirmi su Facebook e Instagram in descrizione, perché ci sono tante cose per essere aggiornati, vi lascio il link sempre anche del mio grafico, perché se volete seguirlo, anzi io vi invito caldamente di seguire il mio grafico, e niente, ci vediamo direttamente mercoledì, con il super video che dovrà uscire, ho detto tutto, bella!